Gabby, Pandy, Siregatta! Sono così felice di vedervi! E tu devi essere... Shushu! Ciao, Gatto Natale! Ciao, bastoncino di zucchero! Siamo felici che tu stia bene, Gatto Natale! Come va la slitta? Oh, il mio uomo migliore ci sta lavorando proprio ora! Ma ciao, ciao, ciao! Pete, l'orso volare! Mentre io e Pete lavoriamo la slitta, forse voi potreste aiutarmi con un altro problema! Alcuni regali sono caduti dalla mia slitta e ora sono scomparsi! Dei regali scomparsi? Ti aiuteremo noi a trovarli! Gattostico! Ecco l'elenco dei regali mancanti! Wow! Forza, amici! Abbiamo dei regali da trovare! Il primo regalo che dobbiamo trovar Prossimo dono che dobbiamo trovar Una locomotiva così! Vedi qualcosa che si illumina? Qui dentro? Una locomotiva così! Che altro? Una palla da spiaggia La tavola da surf Un maialino E una paperella Un gattino anti-stress Come va? Un rosso robot Un caion dei rifiuti E i pattini finiti fin lassù Wuhu! Li ho presi! Wuhu! Ecco fatto! Direi che li abbiamo recuperati tutti! Oh oh! Ottimo lavoro, amici! Ora ogni bambino e bambina Gatto e gattina Avrà il suo regalo! Come vanno le cose lì, Pete? La buona notizia È che posso sistemarla di sicuro La cattiva notizia è che Purtroppo non sarà pronta Prima di... Domani! Domani? Ma è la vigilia di Natale! Dobbiamo trovare un modo Per consegnare i regali stasera! Mi piace il tuo gatto atteggiamento Riflettiamo Se Gatto Natale Non può guidare la slitta Forse c'è qualcos'altro Che può usare Sì! Potrebbe usare La nave da crociera delle sirene! La nave da crociera? Pensi che possa funzionare? Ho ho ho! Ma sì! Perché no? Ho ho ho! Gatto Natale! Ti abbiamo preparato uno spuntino! Questo è un... Gatto Banana Natale! Ha ha! Ho ho ho! Lo adoro! Grazie! Siete stati molto premurosi! Ecco a te il bastanzino di zucchero! Ciao ciao! Non preoccuparti Gatto Natale! Domani ti farò trovare La tua cara vecchia slitta Come nuova! Grazie Pete! E miau Natale! Attenzione a tutti i passeggeri! La crociera natalizia delle sirene È pronta a volare! Hai sentito Gatto Natale? Siamo pronti a partire! Non proprio! C'è ancora una cosa da fare prima Ed è molto importante! Grazie! Grazie!